Questa corsa Champions si sta facendo insostenibile, cari amici io sono l'esso, ogni settimana di calcio mi stressa profondamente e credo che sia lo stesso anche per voi E' stata una settimanaccia, per me almeno è stata una settimanaccia perché l'inesima sconfitta a Milano non è stata graditissima proprio Però la classifica è la seguente, partiamo da lì, Napoli 83, beati loro, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta e Roma 58 Si sta un po' delineando però la quota Champions è sempre difficile da individuare, cioè quando finirà questa angoscia? Ma non lo so, oggi vediamo anche il calendario, parliamo un po' di tante cose Ma è stata la settimana scandita dallo scontro Roma-Milano in cui Milano ha prevalso in maniera netta con un 2-0, 2-0 Rifilato rispettivamente a Lazio e Roma che ha lanciato le milanesi che sembrava potessero essere distratte dalla Champions Ma in realtà proprio 0-0 di 0 proprio Sembrava che fossimo, che fossero le Romane quelle impegnate con la testa altrove Quando in realtà purtroppo, almeno per la Lazio non è così Quindi sconfitte brutte per entrambe, sconfitte che mettono la Roma in questo momento al settimo posto La Lazio al terzo ma un terzo posto delicatissimo Terzo posto rischiosissimo In attesa di quello che sarà l'esito della questione di Juventus Ma io ripeto, non riesco a ragionare nell'ottica del Eh ma tanto poi alla Juve gli elevano i punti Anche perché, amici laziali, voi lo sapete Sapete che se noi dovessimo malauguratamente arrivare quinti Malauguratamente arrivare quinti Con lo spettro della Juve che gli posso levare i punti Lo titolo non farebbe mercato fino alla sicurezza matematica di andarci in Champions Quindi vorrebbe dire andare in Champions per andarci inutilmente poi di fatto Ma al di là di queste riflessioni oscure che tanti sicuramente non avrebbero mai venuto a ascoltare Perché in cuor nostro tutti lo sappiamo Diciamo che è una corsa Champions ricca di insidie Con calendari che apparentemente favoriscono l'una a dispetto di un'altra Ma che poi concretamente so da giocare le partite Quindi adesso uno sta lì a rincuorarsi Guardate, beh dai io sono fortunato, io sono sfortunato Ma poi il campo è un'altra cosa Per cui non sono poi così sereno io Ma guardiamola subito la lista delle partite Allora la Juve, la Juve c'ha Cremonese, Empoli, Milan e Udinese Sulla carta l'unica incognita è il Milan, Vera Un Milan che bisognerà vedere come ci arriverà La Lazio invece c'ha Lecce, Udinese, Cremonese e Empoli Sulla carta dovremmo già stare lì con le trombette in bocca Eh bene 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 Ma la Lazio la conosciamo La Lazio la conosciamo Quindi io fino al novantesimo con l'Empoli non starò godendo Sicuramente, quando anche fossimo in vantaggio Non riuscirò a godere fino alla fine della partita con l'Empoli E si aspetta pazientemente L'Inter c'ha Sassuolo, Napoli, Atalanta e Torino Sulla carta l'Inter è un po' più in difficoltà Perché c'ha il Napoli che libero dal pensiero dello scudetto Potrebbe fare una gran partita così come non giocare affatto Quindi dipende un po' le motivazioni dei giocatori La voglia di... E lo stimolo che ti offre una partita del genere L'Atalanta sarà una partitaccia Però quest'Inter così lanciata Non lo so Il Milan Spezia, Sampdoria, Juventus, Verona Anche qua Il calendario a parte la Juve è abbastanza abbordabile Però L'unica è la Samp che potrebbe fare la partita della vita Ma quando anche fosse Se il Milan giocasse come sa Non credo dovrebbe temere granché La Roma c'ha Bologna, Serenitana, Fiorentina e Spezia Poi la Roma non è messa malissimo Sulla carta Buon calendario, Fiorentina C'è quello Spezia Grande incognita Ma toccherà capire un po' la lotta per la salvezza Però se la Roma gioca da Roma Non dovrebbe credo temere granché L'Atalanta c'ha Serenitana, Verona, Inter e Monza L'Atalanta in teoria A parte l'Inter Sembra avere un buon calendario Ma anche qui Il campo Dovrà parlare Quindi diciamo che Ora come ora Io dovessi fare la previsione Non riuscirei a farla Perché dipenderà da quello che faranno Inter e Milan Da come reagiranno alle rispettive conseguenze In Coppa Campioni Dipenderà da quello che farà la Roma in Europa League Insomma ci sono tante questioni ancora risolte Che si definiranno e delineeranno Già dalla prossima settimana Però ora come ora è brutta È brutta anche perché tu guardi Inter-Lazio e vedi una Lazio completamente assente Guardi Roma-Inter e vedi una Roma Che non è proprio in condizioni ottimali A causa anche dei mille e mille di fortuni che c'hanno Guardi Atalanta-Juventus E vedi una Juve che è in buona condizione Ma con questo spettro della penalizzazione Che aleggia Che aleggia, aleggia Io mi auguro che si definisca presto In maniera definitiva la questione Se può andare avanti così Sta diventando veramente difficile anche gestire il tutto Quindi insomma Cosa accadrà? Non ne ho la più pala idea Però sono molto curioso Diciamo che questa settimana Ha mischiato ancora di più le carte in tavola E C'ho paura C'ho tanta paura in questo momento Vabbè Comunque Permettetemi di chiudere Con due paroline sul caso Vlaovic Perché Odio un po' l'ipocrisia Odio Odio un po' L'ipocrisia Chiamiamo quello È l'ipocrisia Allora Io mi aspetto Per Onestà intellettuale Di tutti quanti Che adesso Il già Lovlaovic Venga Venga ritirato Per intervento del presidente La Federca Perché Se vale per uno Vale anche per l'altro Trovo che Un giocatore Che Zittisce Un pubblico Insultante Faccia parte Della vita Delle persone Cioè Se uno non può neanche far così ragazzi Dopo essere stato insultato Per 40 minuti Credo che Si sta ricordo al mondo Ma al di là di quello A me la cosa che ha fatto più Specie Sono state le parole Di diversi Personaggi illustri Mica solo di uno Riguardo al Al presunto Non razzismo Degli insulti Rivolte a Vlaovic Che non ripeto Per evitare che sto video Faccia una brutta fine Però Avete tutti Sono gli stessi Che vengono puntualmente Indirizzati a Ibreovic E compagnia cantante Io Parlo Parlo anche per esperienza Tristemente diretta Come molti sanno Io ho vissuto diversi anni In Inghilterra E in Inghilterra Da piccolo Ero anche piccolo Che mi è dato più volte Di essere Picchiato In maniera anche Abbastanza violenta Di Ricevere sputi Eccetera Al grido di Italiano Bastardo Italiano mafioso Eccetera Non era male Maleducazione Quello era razzismo Anche se sono bianco E italiano Ok Non è che per Perché sussista Il razzismo Ci deve essere Una determinata tonalità Di pelle È razzismo Ugualmente Anche nei confronti Di un serbo Se Gli insulti Sono di quel tipo Di quella matrice Non è male La maleducazione Porta Può essere Una causa Anzi Un'origine Del razzismo Ma non è Una cosa A parte E sarebbe Importante Sottolinearlo Per onestà intellettuale Per amor proprio Per dignità Trovo che Definire Quello che è successo A Olaici Ieri Una forma Di maleducazione Sia Un voler Evitare Di affrontare Un problema Che c'è Ma non c'è A Bergamo C'è ovunque C'è nel mondo E se si vuole Se si vuole Avere una vana Speranza Di risolverlo Prima o poi Bisognerebbe Prima di tutto Vederlo Per quello che è Perché fin quando I problemi Non si individuano E non si ammettono È difficile Riuscire a risolverli Ora Io ripeto Mi augurerei Che almeno Le persone Che hanno in qualche modo Il potere Di influenzare Il contesto Possano farsi Portatori Non in maniera Finta E strumentale Di certi valori Perché se poi La FIFA E la UEFA Fanno le campagne Su Il fair play Le cose No al razzismo E poi però Siamo immersi In questi contesti In cui neanche Gli addetti ai lavori Riconoscono i problemi Per quelli che sono Diventa veramente Difficile poi Guardare con credibilità Quello che Ti propinano Puntualmente Così come Ripeto Una classe arbitrale Che secondo me È mal consigliata In questa fase E anche Poco lucida Forse Nel valutare Determinati episodi Perché Se di fronte A degli episodi Di razzismo Si sceglie Di continuare a giocare Allora Devi anche permettere A chi ne è Bersaglio Di poter reagire Nei limiti Della legalità Fare così Credo che Possa essere considerato Un atto Nella legalità È uno sfogo Che trovo Assolutamente Quanto meno Legittimo No? Ecco Non dico Se deve abbassare E mettere Su mano Però Almeno fare così Voglio dire Comunque Volevo Volevo Giusto Dire la mia Visto che Questo è un tema Che a volte Mi sono trovato A discutere Anche Appunto Per il mio privato Con persone Che a chi è lì Ma mica È razzissimo Chissà cos'è Comunque Ragazzi Niente Questo è quanto Io vi mando un abbraccio Speriamo Che Milan Inter O Inter Milan Non so Chi parte in casa Sia un bello spettacolo Weekend Di 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 Bello Come il sole Perché al di là Di 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 Milano Inter Ci sarà Questo City Real O Real City Non so Chi gioca in casa La prima Però Due partite Da vedere Di cui parleremo Magari Se vorrete Speriamo Speriamo Che Settiva Prossima Si possa Si possa Godere Un po' Magari Prendere Un po' Di slancio Magari Comunque Niente Ragazzi Vi auguro Buona settimana Un abbraccio A tutti Sempre Forza Lassio Che male Non fa E ci vediamo Alla prossima